Tre persone, due uomini e una donna, sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Urbino per furto nel supermercato Conad della città Ducale. Il fatto risale al 15 aprile scorso e ad inchiodare i responsabili sarebbero state le immagini di videosorveglianza riprese dalle telecamere del negozio. I tre operavano sempre insieme e la tecnica messa a punto era semplice ma efficace. Un uomo e la donna si mettevano in coda contemporaneamente per pagare alle casse mentre loro tenevano occupati i cassieri e facevano da scudo con il loro corpo, il terzo arraffava il denaro nella cassa temporaneamente chiusa. Il trucco funzionava perché solo a fine giornata il titolare del supermercato si è accorto dell'ammanco di quasi 800 euro dagli incassi giornalieri. Gli incroci delle immagini con altri episodi simili avvenuti nel circondario ha permesso ai poliziotti di individuare il terzetto e denunciarli per furto aggravato, anche per un analogo episodio commesso in un negozio di Mondolfo.